Ciao, mi chiamo Filippo. Le riprese che sto per mostrarvi sono state girate in una zona malfamata e pericolosa di Milano. Non mi sono potuto dilungare troppo, ma spero che il video si esaustiva. Sì? Sono il comandante a fine. Sto sorvolando Milano. Un problema è mia bolla, eh? Mi precipito subito! Salve il primo uomo! E mai signora? E lei ti ha chiamato? Ho chiamato io. Bene, mi faccio vedere. Andiamo. Caspita, caspita, quanti colori! Quanti colori! Ma è un bel posto questo. Bellissimo. Mi scusi, ma non lo vede che è tutta spazzatura? Spazzatura? Come spazzatura? No, qua ci devo vedere chiaro. Ma questa è una cantina. No, come potete vedere ragazzi, qui è uno scempio. Scusi, la sua cantina qual è? Quella lì. Questa qui? Sì. Quindi lei per accedere alla sua cantina deve passare sopra a questi rifiuti? Sì. È incredibile. E come fa? Non vado. Ah, perfetto. Ma avete soltanto questo come problema? No, infatti abbiamo problemi anche con i contatori di là. Voliamo, vogliamo. Andiamo a vedere subito. Scusi qua, benvenuti nel paradiso degli allacciamenti abusivi. Come potete notare, ci sono cavi ovunque che potrebbero essere anche molto pericolosi. Ma voi avete fatto per caso qualche segnalazione su questo? Noi sì. Noi abbiamo contattato Aler, abbiamo contattato la polizia e non è mai venuto nessuno. Noi siamo costretti a vivere in questo degrado. Eh no, qua bisogna fare subito qualcosa. Grazie Alessandra. Grazie a voi. Dalle cantine di Via Bolla, questo è tutto. A voi studiati. Ciao.